Caltanisetta, 30 agosto 1948. Sotto il sole infuocato della Sicilia, nel cimitero cittadino, si sta celebrando un funerale. Il defunto è il notaio Rosario Raimondi. Fatale è stato un attacco di cuore. Il silenzio composto degli astanti è interrotto dal singhiozzare incessante della vedova, che in preda al dolore si getta a franta sulla barra del marito e piangendo mormora «Perché mi hai lasciato?». La risposta non arriva dal feretro, ma da un uomo tra la folla. «Finiamola con questa commedia! Sei tu che l'hai ucciso! L'hai avvelenato!». Di colpo, il soffocante calore estivo è attraversato da una folata di freddo gelido. La donna sbianca, guarda in direzione della voce e riconosce tra la folla il fratello del defunto consorte, Luigi. Qualcuno la sorregge mentre sta per svenire. Quelle parole sa che sono rivolte a lei. Sa che l'hanno sempre detestata. Suo marito è morto per un attacco di cuore, almeno questa è la versione ufficiale resa dal medico che ha stilato il certificato di morte. Ma la vedova Assunta Vassallo non può ignorare il sommesso sussurrare della folla riunita per le segui, gli sguardi incrociati dei presenti pieni di curiosità morbosa nei confronti di quella famiglia così in vista e neppure le pesanti accuse che il cognato le ha rivolto. Per un attimo resta sballordita, poi fugge via. Poco più tardi, Assunta confida l'amara verità a suo fratello ha volontariamente provocato la morte del consorte, facendogli ingerire piccole quantità di veleno per topi. Davanti a quella confessione il fratello la convince a costituirsi e il giorno seguente, il 31 agosto 1948, Assunta Vassallo, vedova Raimondi, si presenta in caserma dal maresciallo chiedendo di verbalizzare. Ho ucciso mio marito col veleno dai topi. L'ho fatto in un momento di smarrimento, ero infelice, ero tormentata dalla gelosia, stanca di sopportare in silenzio le sue relazioni con altre donne. Assunta Vassallo nasce nel 1911 da una delle famiglie aristocratiche più in vista di San Cataldo. E' intelligente, colta, brillante, vivace, rientrata a casa dopo gli studi, in uno dei migliori collegi di Palermo, il Sacro Cuore, come tante sue coetanee sogna il grande amore, quello dei romanzi rosa. E lo trova quando su di lei cadono gli occhi di un giovane ricco di buona famiglia. Non è nobile ma appartiene alla ricca borghesia, si chiama Rosario Raimondi e sta per diventare notaio. Una carriera che presto lo vedrà diventare uno dei professionisti più stimati in città e della Sicilia. Lontano da tutti i paradigmi dell'epoca, Assunta si impone ai suoi genitori che non vedono di buon occhio la relazione della figlia con un uomo certamente ricco, sì, ma non nobile. I due si sposano il 6 ottobre del 1927. Lei ha 16 anni, lui 27. Un matrimonio d'amore, quello che ha sempre desiderato. Assunta è al culmine della felicità gli impegni da padrona di casa, il trasferimento a Caltanisetta per il lavoro del marito e dopo solo un anno di matrimonio la prima figlia, una femmina, poi un secondo, un maschio. Ben presto però il sogno romantico inizia ad infrangersi. L'uomo che ha sposato è l'esatto contrario di quello che ha sempre desiderato a suo fianco. Il marito è sempre occupato dalla sua attività o impegnato in lunghi viaggi di lavoro che lo trattengono lontano da casa per parecchi giorni. E anche quando torna è assente, distante, poco disposto a prestarle attenzioni. Rosario in realtà a casa resta molto poco. Divide il suo tempo tra lo studio e il circolo. Ha la passione per il gioco e non distegna le avventure galanti. Donna che ama frequentare soprattutto durante i suoi viaggi di lavoro in Sicilia, Roma, in particolare una certa Carlotta. Ma è anche un tabagista, un vizio che non abbandona nonostante due anni prima abbia avuto un attacco di cuore dovuto ad un'intossicazione da fumo. Sempre più sola e sempre più triste, assunta trascorre le sue giornate ricamando, leggendo, frequentando le nobile donne della Caltanisetta che conta, facendosi notare per gli abiti costosissimi tra un'organizzazione e l'altra ad incontri mondani e di beneficenza. Ma non è felice. Il senso di solitudine che prova si allontana quando viene ad abitare nel loro palazzo un giovanotto, Raimondo Gangitano, cugino della Vassallo di cinque anni più giovane. Prima gli incontri casuali nel palazzo, poi gli sguardi sempre più insistenti che fanno sentire assunta desiderata come non accadeva da tempo. Sensazioni ormai dimenticate che la travolgono e riempiono le sue giornate vuote. Una passione travolgente che nel tempo si trasforma in un attaccamento morboso da parte di assunta nei confronti del giovane, mentre nei salotti buoni di Caltanisetta già si inizia a mormorare sulla sua relazione extraconiugale. Relazione di cui però il notaio Raimondi è al corrente. Parenti e amici hanno già provveduto a raccontargli che la giovane moglie ha un amante. Lo riceve in casa in sua assenza e gli dà anche del denaro. Assunta non nega, i due si chiariscono e lui pone una sola condizione alla moglie, che non si arrivi mai alla separazione. Circostanza che avrebbe disonorato la sua posizione, il suo lavoro di notaio e i suoi figli. Questo strano equilibrio va avanti per qualche anno, sino che il giovane Raimondo Gangitano, forse non così innamorato, inizia a stancarsi e sotto pressione della sua famiglia, che lo vuole sposato e libero da un rapporto senza futuro, decide di porre fine al loro rapporto. La lascia una prima volta nel 1946, dopo quattro anni di relazione e due prima della morte del notaio. Lei lo supplica di non lasciarla e complici gli amici. I due si rimettono insieme, ma il loro rapporto non è più lo stesso. Il 16 agosto 1948 Raimondo incontra Assunta e la mette al corrente del suo imminente matrimonio con una giovane pallermitana e della volontà di troncare ogni rapporto con lei. Insieme, le dice, non potranno mai avere un futuro. La donna accoglie male la confessione, lo scongiura di non abbandonarle, implorandolo di far morire la loro relazione lentamente, con incontri sempre meno frequenti. Ma il giovanotto non ne vuole sapere, non sarebbe corretto nei confronti della sua fidanzata. Assunta però non de morte, è ossessionata da Raimondo, continua a cercarlo anche attraverso amici intermediari, a tempestarlo di telefonate. E il 27 agosto, quando cedendo all'ennesima richiesta telefonica, il giovane accetta di incontrarla per l'ultima volta, per ripeterle ancora una volta alla sua intenzione di troncare il loro rapporto. Assunta sembra rassegnata, comprensiva, promette di non cercarlo più se non telefonicamente per qualche consiglio o conforto morale. Forse in quell'istante un'idea fugace le attraversa la mente. Per non perdere l'amante dovrebbe togliere di mezzo il marito. Ma è solo un pensiero che scompare come è arrivato. Raimondo si sposerà e lei cercherà di riconciliarsi con il marito. Alle 21 e 45 di quella stessa sera, il notaio Raimondi esce di casa per fare due passi. Ha appena terminato di cenare. Come tutte le sere, dopo aver salutato i figli, si dirige al bar per incontrare gli amici. Dopo circa mezz'ora, mentre sta prendendo un caffè, inizia a sentirsi male, un attacco improvviso, violento. Gli amici di peso lo portano a casa. Il medico, che lo aveva già curato in passato, conferma la diagnosi precedente. Intossicazione da tabacco, prescrive medicinali e sanguisughe. Ma solo 24 ore dopo il malore, il notaio muore tra atroci dolori. Morte per attacco di angina per intossicazione da tabacco, scrive il medico sul certificato di morte. Il 30 agosto, il funerale, tra lacrime e singhiozzi, finché il cognato accusa la giovane moglie del fratello di averlo avvelenato. Che lo scandalo abbia inizio. Seduta davanti al maresciallo dei carabinieri, assunta confessa di aver avvelenato il marito per gelosia, con un topicida, fornito da un'amica per metterlo dentro i tappeti, per non farli rosicchiare dai roditori. Per la donna si aprono le porte del carcere e viene condotta in una cella a pagamento, come si addice ad una della sua classe, con i pasti che arrivano dal ristorante. Massunta non ha appetito e confusa, quasi incatalessi. Amore, odio, passione, sentimenti che si mescolano in un caleidoscopio di pensieri che le attraversano la testa tra verità e bugie. A confondere ancora di più le idee di chi indaga, si aggiunge un altro elemento. Luigi Raimondi, certo che non solo il decesso, ma anche i precedenti malori del fratello potessero avere origine da un lento avvelenamento, chiede che venga effettuata l'autopsia sui resti del povero Raimondi e che vengano analizzati anche alcuni oggetti di proprietà del defunto. Ma i risultati degli esami effettuati a Palermo sono tutti negativi, non c'è traccia di veleno. La morte del Raimondi è dunque da addebitare al tabacco. La moglie è innocente, ma allora per quale ragione si è accusata di beneficio? Per dipanare ogni dubbio si richiede un'ulteriore perizia, questa volta a Firenze, dove ha sede la clinica tossicologica più famosa d'Italia. Le lenzuole e il bicchiere dal quale il defunto ha preso le medicine partono alla volta della Toscana. Per un errore dei carabinieri incaricati di effettuare la consegna, il pacco però va perso e con esso anche la speranza di scoprire la verità. Viene ritrovato solo tre mesi più tardi in un vecchio armadio dell'ufficio Corpi di reato e finalmente analizzato. Ma quando finalmente arriva il risponso fiorentino, l'ennesimo colpo di scena, la stricnina c'è e in quantità abbondante. I periti di Palermo hanno sbagliato, sentenziano i colleghi fiorentini dando il via ad una violentissima polemica tra esperti. Per i difensori di Assunta, consapevoli che davanti a quel risultato la loro assistita rischia l'ercastolo, chiedono che la donna venga sottoposta a perizia psichiatrica. Assunta viene rinchiusa nel manicomio criminale di Aversa. L'esito della perizia evidenzia una donna affetta da sindrome depressiva in un fondo di insufficiente evoluzione psichica e isterismo. elementi già presenti nell'imputata prima del reato. Si rileva inoltre che al momento del delitto a causa di tale infermità era scemata la capacità di intendere volere ed inoltre che anche nel presente è ancora socialmente pericolosa. Trascorrono altri cinque anni finché nella primavera del 1955 si apre il processo davanti a una folla curiosa, divisa tra colpevolisti e innocentisti. La difesa è affidata ad un grande nome del forro romano, Bruno Cassinelli, aiutato dai Nisseni, Vincenzo Vizzini e Michelangelo Salerno. I parenti del notaio non si costituiscono parte civile dichiarando per mezzo dei propri legali che la loro decisione nasce unicamente dal desiderio di assecondare quello dei due figli del Raimondi a non inferire sulla loro madre. L'avassallo, così come aveva già fatto in fase di istruzione, fornisce una nuova versione dei fatti. Davanti alla corte sostiene che il movente dell'avveglionamento non è stata la gelosia, bensì la pietà. Solo lei e il consorte erano al corrente della grave malattia dell'uomo, che non aveva alcuna speranza di guarigione, ma come credere ad una donna che nel corso degli anni ha fornito agli inquirenti versioni differenti e più volte ritrattate. Convinto della sua innocenza e suo legale, Cassinelli, durante il dibattimento invita la corte a non credere all'autoaccusa della donna che, a suo dire, aveva agito in preda al panico e alla confusione e per paura di ritorsione da parte dei familiari del marito e che aveva visto nella fuga in caserma un ancora alla sua incolumità. Mentre l'avvocato Salerno, amico e difensore della vassallo, non fa mistero di una possibile manomissione dei reperti nello spostamento dei medesimi tra Palermo e Firenze. Verità, bugie e contraddizioni fanno da sfondo ad un processo che diventa una sorta di palcoscenico teatrale. A deporre viene chiamato anche l'ormai ex amante Raimondo Ganchitano, che conferma la relazione avuta con l'imputata. Davanti alla corte spiega che era terminata per suo stesso volere, non avendo ravvisato un possibile futuro insieme in vista di un suo imminente matrimonio. Non ci sono elementi che lasciano supporre un suo coinvolgimento nel reato. Invece la stregnina c'è e a metterla non può che essere stata lei, la moglie infantile e isterica. La sentenza di primo grado la condanna a vent'anni di reclusione, ridotta a sedici in appello, che le riconosce la semi-infermità mentale e le infligge altri tre anni in un istituto di cura. Condanna confermata il 23 marzo 1958 dalla Cassazione, rinchiusa nel manicomio giudiziario di Pozzuoli, dove deve rimanere sino ad agosto 1961, beneficiando di sei anni di condono. La sera del 29 dicembre 1960, assunta vassallo verso le 19 esce dal carcere, un anno e otto mesi prima di avere scontato la pena inflittale. Ha ottenuto la grazia dal ministro della giustizia Gonella per consentirla di stare accanto alla figlia, affetta da una grave malattia e bisognosa di assistenza. Dimesse con una piccola valigia in mano e salita su un taxi per dirigersi alla stazione di Napoli. Un treno la riporterà a Caltanisetta. Non ci sono giornalisti o fotografi a fermarla. Sono passati undici anni dalla morte del marito, quando assunta a 37 anni era giovane, bella, felice. Oggi sul suo avviso, sembra ne siano passati cento. Rientrata a Caltanisetta, trovò occupazione come infermiera, mansione che svolge per una decina di anni, ben voluta e apprezzata da tutti coloro che l'hanno incontrata. Gli ultimi anni della sua vita li ha trascorsi in un modesto appartamento. Gli agi e lo sfarzo che aveva conosciuto in gioventù sono ormai solo un lontano ricordo. Ma come siano andate veramente le cose? Noi non lo sapremo mai. Grazie. 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 Grazie.